C'è il caffè che fai, sono Baga, io vengo Baga, vengo Baga, vengo Baga. E lo sai una volta io dobbiamo andare allo spettacolo al teatro, ci sono tutti molto divertente. Certo, ho bisogno per andare allo spettacolo da quella parte. Ci siamo tutti molto strani e di spesa. Che ti ha preso? Lo so. Lo sai davvero? È molto importante, è arrivata la stella. Ciao ragazzi. Ciao stella. Andiamo al teatro? Certo, andiamo al teatro. Ok, andiamo. Grazie. 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 Ehi, dove sei scappato? Ehi, dove sei scappato? Ehi, dove sei scappato? Aspetta papà, dobbiamo chiederti subito. Ehm, torneremo. Ok, ok. Ok stella, possiamo guardare il teatro lo spettacolo di... Lago dei Cegni. Lago dei Cegni. Lago dei Cegni. Oh, com'è dolce. Ehm. Avvoltoio? Ma dove hai lasciato Stella Harrison? Dovevi aspettare, non sto scherzando. Scusa, e adesso te lo prendo io. Pronto? Avvoltoio! Sei stato a Montocopa 2, devi venire al teatro lo spettacolo. E tu sei licenziato! Oh crap. Chiara? No. Voi, con me sogghi. No. Voi, con me sogghi. Bello! Grazie a tutti